ciao ragazzi benvenuti a tutti ma proprio ragazzi a tutti in un nuovo video io sono fox ragazzi e voi già conoscete il mio impianto sicuramente se non lo conoscete vai sul canale trovi tutti i video di come l'ho realizzato cosa ho utilizzato e ragazzi un impianto off grid te lo ricordo sempre oggi ragazzi come da titolo facciamo un video ragazzi che mi piace tantissimo inizio finalmente a vedere i primi risultati conviene o non conviene un impianto solare fotovoltaico quanto risparmiato già con mio impianto fotovoltaico come proseguono le cose con l'impianto fotovoltaico ragazzi vai con la sigla questa è la per ultima bolletta questa è l'ultima bolletta arrivata dopo l'installazione dell'impianto allora vi dico che la terz'ultima bolletta era da quasi 600 euro la per ultima che questa 521 euro è l'ultima bolletta arrivata bimestrali tutti bimestrali eccola qui ragazzi 123 e 49 euro questo è quanto mi è arrivato grazie al mio impianto per questi ultimi due mesi di energia allora ragazzi facciamo un po di chiarezza come mai mi è arrivato 123 no 0 euro perché tu mi dirai fox ma tu non eri off grid fox ma tu non dovevi avere una bolletta 0 euro la mia idea per il futuro è quella però aspetta non puoi arrivare subito a fare 0 euro aspetta allora facciamo chiarezza questa bolletta che l'ultima quella da 123 è scattata l'uno ok io l'impianto l'ho attivato giorno 16 bene questo sta a significare che dall 1 al 15 io ero allacciato allacciato bene perciò qui io sto pagando oltre alle tasse oltre all'iva oltre al carone fisso oltre a tutte le porcate che ci fanno pagare i 15 giorni senza impianto kilowattora totali 200 bene nella bolletta precedente e nella bolletta precedente ancora andavamo dai 900 a 980 mille kilowattora massimi ogni due mesi ragazzi io in questi ultimi due mesi volete sapere quanti kilowattora ho consumato mille e 400 kilowattora e tu mi dirai fox mai consumato più energia di quanto ne consumavi prima e come ha fatto ad arrivarti solo i 100 invece di 5 barra 600 ragazzi perché io ho utilizzato per il 95 per cento energia proveniente dal fotovoltaico per una piccola parte giustamente giustamente considerando l'inverno considerando i 15 giorni i 15 giorni che ragazzi sono tanti 15 giorni puro contatore i primi quelli iniziali sono tanti hanno inciso parecchio perciò vedendo tutto questo io ad oggi posso dirvi che ragazzi ottimo io stimo che se non ci fossero stati 15 giorni in partenza di contatore io ragazzi questa bolletta cioè era forse 80 euro forse che se tu fa il conto su questi 80 quanto poi loro si prendono di fisso stiamo parlando di spesa per la materia energia quasi zero bene poi mi dirai fox e quando hai abilitato il contatore perché lo hai abilitato dato che allora dici che non sei stato off grid tutto il tempo allora io no ragazzi attenzione io sono stato off grid tutto il tempo ma quando più giorni consecutivi c'erano brutte giornate non potevo andare a mettere sotto sforzo la batteria o meglio non volevo perché potevo volendo potevo farlo ma siccome voglio preservarla e alla fine quello un chilowattora due chilowattora di consumo dal lente non mi interessa non mi cambia la vita io preferito quando necessario stare con il lente fornitore energetico ok per un totale di consumo prelevato dal lente fornitore abbiamo detto di 200 chilowattora io in tutto ho consumato mille e quattro vuol dire che mille e due me li ha prodotti il mio impianto solare fotovoltaico ragazzi dalle ore circa sette ora che già inizia a cambiare la stagione io inizio a produrre prima in inverno ragazzi e si iniziava dalle 10 forse 11 a produrre bene ora già abbiamo preso qualche oretta poi il sole sta cominciando a cambiare la sua inclinazione infatti il mio inseguitore funziona prima si alzava quasi tutto ora si alza poche niente perché appunto segue per precisamente la traccia posizione del sole zenith ragazzi zenith niente ragazzi per questo video è tutto se non hai visto il mio impianto solare fotovoltaico of grid vai sotto in descrizione o anche vai sul canale li troverai tutti i video se vuoi sapere quali componenti ho montato item sotto trovi tutti i video se vuoi entrare anche tu a far parte di questa bella community su facebook io ti ricordo che c'è il gruppo dedicato al fotovoltaico by fox ti lascio sempre sotto in descrizione e non sei iscritto qui su youtube iscriviti lasciamo un like dimmi cosa ne pensi del mio risparmio perciò per chi era scettico si può risparmiare guarda sì ragazzi si può risparmiare si può risparmiare sì sì ragazzi per questo video è tutto ciao belli al prossimo video